Siamo qui al Cus Napoli dopo la terza partita del campionato di Serie C, vittoria Roboante da parte della Napoli femminile, 22 a 0. Un'impressione anche se si è giocato contro una squadra obiettivamente molto molto giovane. Sì, innanzitutto ci tengo a fare complimenti alla Potenza Calcio perché le ragazze molto giovani hanno dimostrato grande amore per questo sport e grande serietà e grande sportività e quindi hanno onorato questa partita fino in fondo. Sono molto giovani e penso che questa sconfitta possa farle crescere e hanno fatto una bella esperienza. Noi ovviamente siamo una squadra che è costruita per essere molto competitiva e quindi il risultato è importante, ci fa piacere, dà morale e ci fa ben sperare per il futuro. E' chiaro che un risultato di questo genere non dà delle indicazioni, però credo che anche l'approccio e il modo di rispettare la squadra avversaria perché fare tanti gol significa soprattutto rispettare la squadra avversaria. Da parte della nostra squadra e quindi diciamo anche l'input che ha dato il mister Marino credo che sia stata la medicina giusta. Sì sì no, devo dire che a volte dispiace quando il risultato diventa addirittura troppo importante, però dimostra che c'è la giusta mentalità da parte delle ragazze che hanno dato anche oggi il massimo, non hanno avuto cali di concentrazione nemmeno in una partita che poteva prestare appunto un calo fisiologico. Penso che sia un bel segnale, una squadra che vuole vincere, che vuole dimostrare di essere forte e che in partite come questa riesce anche a trovare dei giusti schemi, dei gol molto belli, abbiamo visto delle giocate anche di qualità e questo ci fa piacere. Benni De Biase, centrocampista del Napoli femminile, commento dopo questa partita? Salve a tutti, buonasera, è stata una partita che ci serviva molto per capire alcune cose per noi, siamo felici per questa vittoria e dobbiamo lavorare ancora tanto per le prossime partite che ci spettano. Prossima partita è il derby? Sì, dobbiamo lavorare molto perché sappiamo che i derby sono molto importanti e dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo per vincere. Un segreto dello spogliatoio? I segreti sono segreti quindi non c'è bisogno di parlare. Mister Marino dopo questa vittoria scoppiettante però si sapeva che si affrontava un avversario chiamiamolo debole però soprattutto una squadra giovane. Comunque dati e impressioni dopo questa partita? No, abbiamo cercato come giusto che sia di rispettare l'avversario quindi la squadra ha ben interpretato la partita nonostante oggi un po' di vento, un po' di pioggia e il maltempo abbiamo condizionato alcune trame di gioco però penso che abbiamo fatto delle manovre molto belle. La squadra sta raggiungendo una sintonia e una compattezza di cui sono contento. Bisogna continuare a lavorare così, siamo solo alla terza partita quindi il campionato è ancora lungo però l'importante è ogni partita mettere un tassello piano piano verso la promozione. Si sta dileniando quelle che possono essere le avversarie, quali sono quelle che fanno più paura? Paura, insomma diciamo quelle da rispettare nel modo stesso però ecco quelle lì con le quali bisogna fare i conti. Ma io penso che al momento sia ancora presto perché comunque ci saranno due campionati, questo qua fino a dicembre e da dicembre in poi. Noi dobbiamo essere noi quella che la squadra che deve essere temuta e viviamo partita dopo partita con l'obiettivo che la squadra che si affronta è la squadra che per noi può essere l'antagonista verso la promozione. Tante partite rimandate possono condizionare quello che è un po' l'andamento del campionato? No, un po' possono rallentare quelle che sono determinate evoluzioni per quanto riguarda l'aspetto tattico o l'aspetto fisico. però noi siamo molto attenti a questo quindi le settimane che non si gioca facciamo amichevoli, abbiamo la possibilità di usufruire di una struttura bellissima. Quindi diciamo che l'importante è quello di ogni settimana di trovare le motivazioni giuste per lavorare, per spostare sempre i propri limiti e migliorarsi sempre di volta in volta. Appunto, obiettivi e diciamo stimoli. Andiamo verso il derby. Sì, vabbè è una partita a sé, quella lo sappiamo, è una partita da giocare e da vincere. Quindi la questione è sempre la stessa e che l'abbiamo affrontata anche in Coppa Italia. Per noi il cambio di mentalità quest'anno era proprio quello, di affrontare ogni partita consapevoli che per noi sono partite importanti e sono finali. Quindi affronteremo questa partita di domenica prossima con questo spirito. Quanto incide nello spogliatoio la presenza di giocatori di Cistraniere che hanno maggiore esperienza? Ma in positivo perché diciamo che si sono adattate benissimo le nostre, quindi questa differenza che si poteva notare all'inizio adesso è quasi inesistente. E poi sotto l'aspetto dello scambio culturale è stupendo perché si vedono delle cose negli spogliatoi tra ragazze che sono veramente, trasmettono emozioni e sono davvero belle.